da 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 del web stasera eccezionalmente per voi siamo a cracovia una delle più importanti città polacche questa è la piazza centrale guardate questa la cattedrale è una grande storia questa cattedrale qui come grande come basta non so se riuscite a vedere tutti perché purtroppo non c'è abbastanza luminosità bellezza guardate la gente che la gente simpatica disponibile l'unica cosa che quando senti parlare di socialismo e si cassa